ciao ragazzi che noi non ci siamo sentite tanto ma c'è no aspetta allora siamo stati molto impegnati come abbiamo detto con la scuola che era in piscina piscina vogliamo salutare lello che ci guarda ciao lello ti vuotevo bene speriamo che ci guardi poi martedì ci vediamo in piscina che bello è bello dobbiamo raccontare tanti fatti dobbiamo ancora ringraziare infatti bravo comunque prima siamo uscite siamo andate a comerci big bello tende c'è successo che debba è caduta ma sapete che è caduta infatti noi siamo amiche di bici perché sono uscite due anni fa in piscina con quelli scema di capa che frangelo e naso umberto e vale chi vale 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 vabbè siamo pazzi quando vogliamo dirvi che boh che volevo dire ora farà debbora che allora noi facciamo la terza media io l'anno prossimo andrò al classico e lei o viene come al classico oppure al scientifico scientifico e poi andiamo al conservatorio e andiamo al can comunque vogliamo dire a tutti i capelli che mi riferisco gg ciao 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 ciao